Appena una settimana fa nel quadrilatero di vie che si affaccia sulla piazza San Cosmo e Damiano, centro storico di Catania, c'erano anche ragazzine ad aiutare gli spacciatori nello smercio della droga, usati come vedette, comparse e commessi. Tra i venti arrestati c'è anche Concetta Zuccaro, sorella dell'ergastolano Maurizio, legato al clan dei Santa Paola Ercolano e boss del gruppo che prende il nome dalla zona. La zona di San Cosmo è un insieme di case piccole dell'Ottocento, un insieme di vicoli, di cortili dove tutti si conoscono e si frequentano, a pochi passi la piazza di San Cosmo e Damiano, il famoso quadrilatero dello spaccio della droga. Ed è da qui che lo Stato, il Comune, vuole partire per recuperare soprattutto i giovani finiti come manovalanza della mafia. Oggi cinque immobili, sei anni dopo la sentenza definitiva di sottrazione alle cosche, vengono consegnati al Comune, saranno case per chi all'improvviso resta senza ed una diventerà un centro per attività destinate ai più piccoli. Non è un atto solo dimostrativo, evidentemente è frutto di un percorso di legalità e di legalità che avviene in un quartiere che ha una sua connotazione, che non è, non dobbiamo parlare di quartieri a rischio, ma di quartieri che meritano attenzione. Qui dove il tasso di dispersione scolastica è altissimo e i ragazzi hanno fame di spazi aggregativi, anche su questo tema il Comune, in collaborazione con il Tribunale dei Minori, le scuole, l'assessorato e le politiche sociali, emanerà un bando per assegnare gli immobili confiscati alla mafia e destinarli ad attività dove i giovani possano imparare i sani valori.